Il bilancio è sicuramente tra i punti caldi, ma anche il completamento del Comitato di Gestione al Centro Anziani rientra nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del prossimo 2 maggio. Si è resta necessaria un'integrazione dell'ultimo minuto per permettere il completamento dell'intero iter procedurale, porre fino una volta per tutte alla querelle cominciata alcuni mesi fa, che ha visto il ricorso di un gruppo di soci contro la regolarità delle consultazioni del 16 novembre 2017. L'ufficio legale di Palazzo San Francesco aveva spiegato che l'ente comune non ha competenza sull'annullamento o la convalida delle elezioni e che il Centro Anziani è comunque un'associazione di fatto con regolamento interno. Ma le tensioni sono arrivate anche per la chiusura del bar dopo l'ordinanza emessa da Palazzo San Francesco per mancanza delle autorizzazioni sull'esercizio dell'attività commerciale. Il Consiglio Comunale procederà ora a nominare tre rappresentanti. Due saranno scelti rispettivamente dalla maggioranza e opposizione e uno dal primo cittadino. Gli altri punti all'ordine del giorno prevedono la verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza e all'attività produttiva e terziaria, il piano alle nazioni e immobili comunali anno 2018, l'aduzione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e il relativo elenco annuale 2018, il documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2018-2020.